Allora, sto per prendere la macchina e sto per prendere la macchina nuova. Saluto la mia Carolina qui, che ha una storia lunga, molto natura perché era di due parti. Adesso prendo una macchinina che la stanno andando a prendere adesso e speriamo di riuscire a guidarla perché è col cambio automatico che ho mai avuto e niente, ci vediamo tra un pochino quando arriva, vedo l'ora. Com'è? Un giocherello. Io ho coraggio al coraggio a provarla, però è la mia. Eccola, guarda. Manu, ta, ta. No, sì, ho capito, però ho un po' di ansia a provarla. Se poi io sono a cazzo un po' di ansia. E dai, ora quando siamo a crotte la provo. Più abitualmente ci vorrà una settimana. Andiamoci laggiù, usciamo qui. Eh, usci laggiù? Perché devi usci qui? Perché piano è buono, voglio vivare. Eh, vabbè. Vabbè. Continuiamo. Ciao.